Quindi, vabbè ma adesso dobbiamo, dai, se potete dire, ho fatto una performance così a un inizio e alla fine, se no uno va anche per una vita. E vabbè, fa così, adesso la facciamo. 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 Qualcosa vuole, ricomincia a espirare, è un altro giorno, chissà. La vita rende bene, ha la voce di più, non nasce il suo cuore, non ritma di più. La luce di più, non nasce il suo cuore, non nasce il suo cuore. E vabbè, fa così, adesso la facciamo. 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 Qualcosa vuole, ricomincia a respirare, è un altro giorno, chissà. Qualcosa vuole, ricomincia a respirare. Qualcosa vuole, ricomincia a respirare, è un altro giorno, chissà. A presto A presto A presto A presto A presto A presto